Sì, secondo me manca solo quello perché le prestazioni stanno arrivando, penso che anche la scorsa abbiamo perso ma comunque la prestazione c'è stata, siamo proprio positivi, stiamo provando a ribaltare un po' la situazione negativa e stiamo provando a uscirne, però la prestazione c'è, speriamo pure martedì di fare la prestazione e di chiudere l'anno in bellezza. No, e penso che come hai detto te il primo tempo è stato interpretato bene, poi forse il secondo loro hanno avuto qualche episodio favorevole, hanno preso un po' di coraggio e non ci siamo abbassati, però comunque siamo stati bravi a soffrire anche magari quei 20 minuti, a stare compatti e poi comunque a ripartire. Le occasioni penso sono state abbastanza concrete oggi, siamo stati un po' forse leziosi, però l'importante è che l'atteggiamento è giusto e bisogna partire da questo, bisogna ripartire da questo insomma. Forse facendo il gol viene tutto più facile, però è un momento così che non ci sta girando, però dobbiamo continuare a lavorare così su questa strada, perché come ho detto prima l'atteggiamento è giusto e penso che questa sia la prima cosa per ripartire e cercare di portarci cose positive a nostro favore. Noi vogliamo ambire in alto, è normale, proveremo partita dopo partita a portare a casa punti per la salvezza in primis, per stare più tranquilli tutti e poi dopo quello che arriva insomma ce lo prendiamo. Però è normale che noi ambiremo insomma i posti dei playoff, poi sarà insomma il futuro a dire quello che meritiamo. No, penso al momento, diciamo all'azione, non sto a pensare, purtroppo ero in diffida, sapevo che prima o poi il cartellino sarebbe arrivato, non è che sono cartellini preparati o altro. L'azione di gioco è successo, mi dispiace perché comunque sono in un buon momento di forma, però insomma sono sicuro che la squadra ce la metterà tutta per fare punti a genere. Sì, la difesa è ripartita diciamo dallo zoccolo duro dell'anno scorso, quindi magari siamo più affiatati rispetto ad altri reparti, però comunque la squadra sta girando, manca come ho detto prima forse il gol, però sotto tutti gli altri aspetti ci siamo, quindi sarà un periodo negativo, spero che ce lo metteremo alle spalle e usciremo insomma tutti insieme da questo periodo. Grazie.